Proseguiamo con gli approfondimenti all'interno dello spazio Domo Specialist e prendo spunto da una cosa che ci è accaduta la settimana scorsa, un progettista molto minimale con un suo cliente voleva all'interno della propria abitazione una soluzione che sembrava assolutamente non percorribile, ovvero una porta scorrevole interno muro con una plic posizionata sulla parete all'interno della quale la porta doveva andare a scorrere. La collaborazione tra i partner di Domo Specialist, in questo caso particolare tra mie impianti elettrici e lema serramenti, ha portato alla risoluzione di questo problema con estrema efficacia, ovvero il fornitore di lema serramenti Eclisse, il fornitore appunto delle gabbie per porte scorrevole interno muro, ha un prodotto dedicato per poter alloggiare degli elementi elettrici sulla parete stessa, l'esempio è qui alle mie spalle.